Castelvetro e Piacentino è tra i primi comuni della bassa piacentina con il dovere di far rispettare le ultime disposizioni regionali per la salvaguardia della qualità dell'aria. Difatti dal 1 marzo fino al 30 aprile, dalle 8.30 alle 18.30, non sarà possibile circolare nel capoluogo e nelle frazioni con i veicoli privati Euro 0 ed Euro 1. Non solo, ci sarà anche il divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa come stufe e caminetti. In caso di trasgressione le sanzioni partiranno da 50 euro fino a raggiungere i 300 euro. La regione Emilia-Romagna ha deciso di adottare delle misure stringenti contro l'inquinamento. Questo perché l'Unione Europea, come sappiamo, ha sanzionato l'Italia perché non ha preso adeguate misure rispetto all'inquinamento, lo smog che sappiamo porta anche delle malattie. Grazie anche a questo nostro intervento la regione darà ai comuni che adottano queste misure dei finanziamenti che cercheremo di utilizzare proprio per agevolare la mobilità sostenibile. Come ci conferma anche il sindaco, il paese si divide tra persone d'accordo con le nuove disposizioni ma anche con chi non la pensa nello stesso modo. Secondo me è una cosa giusta. Se dobbiamo davvero inquinare meno forse da una parte non è neanche sbagliato, certo che però dovrebbero aiutare perché non tutti hanno la possibilità di mettersi in linea con le richieste del momento. Se me obbligano a cambiare la macchina io adesso non posso. Uno che ha una macchina è un operaio, come può cambiare una macchina che non c'è sorde? Il comune si deve mettere pure dei miei panni, io prendo il subpensionato, prendo 500 euro al mese, ho la spesa, casa da pagare, devo mangiare per vivere, per andare avanti. Come posso fare io? Sono comunque favorevole che venga fatta. Infine c'è anche chi pur essendo d'accordo con l'iniziativa ci tiene a precisare che molti interventi vengono fatti sempre troppo tardi. Le cose che danno un certo risultato bisogna iniziare il momento opportuno per portarle avanti, non aspettare sempre l'ultimo momento.